Qui in questi giorni mi sembra che si possano dire almeno due cose. La prima è che si è costruito un vero incontro fra attivisti delle reti europee e tra l'altro tutti con la consapevolezza e l'umiltà della situazione dei passi da cocche. In particolare mi sembra che sia la rete dell'acqua, sia, io ho seguito soprattutto questa parte, le reti della finanza, debito e austerità politiche europee, stiano costruendo degli importanti passi avanti. Tra l'altro un legame profondo che trova poi il suo riscontro per esempio in tutte le esperienze del momento dell'acqua italiana è quello che per poter davvero ottenere la riappropriazione sociale dei beni comuni occorre aggredire la questione della finanza, la questione di austerità e la politica del debito. Quindi mi sembra che su questo si stiano facendo importanti passi avanti, vedremo poi stasera e domani nelle convergenze. Io credo che si possano costruire alcune tappe di mobilitazione per tutte le reti, in cui tutte le reti si riconoscano, si rafforzino reciprocamente, provino a costruire una piattaforma che finalmente abbia una dimensione continentale perché la cosa più chiara di questi giorni è che senza una dimensione almeno europea delle lotte ciascuna lotta rischia di essere in qualche modo fragile. Grazie a tutti.